Direi che stiamo vivendo una situazione di una certa instabilità a livello nazionale, a livello di diverse regioni, sembrerebbe quasi una fase di transizione. Dopo alcune settimane in cui si è assistito ad una tendenza alla diminuzione nell'RT e nel numero di nuovi casi, adesso abbiamo una sorta di tendenza alla stabilizzazione. Tant'è vero che per esempio l'incidenza che la scorsa settimana era stata calcolata essere di circa 375 per 100 mila, questa settimana è su 330 per 100 mila, quindi la diminuzione è veramente lieve, sia quasi una sorta di stabilizzazione. che vediamo anche dai dati quotidiani dopo, perché vediamo che sostanzialmente ogni giorno sia il numero di positivi che la percentuale di positivi sui test eseguiti rimane più o meno stabile e abbiamo da un paio di settimane ormai una tendenza a un lieve incremento di nuovo di RT, che era 0,82 due settimane fa, è salito a 0,86, adesso a 0,09. Con un paio di regioni, l'Azio e Lombardia, che hanno un RT un po' instabile e soprattutto col Veneto che sta a un RT superiore a 1 e un'incidenza di nuovi casi che sembra essere di nuovo piuttosto elevata. Grazie.